Da giocatore faceva il regista, il metronomo, stavolta detta tempi, azioni e movimenti dalla panchina. Roberto Baronio, allenatore della primavera del Napoli, dopo la vittoria contro il Milan, può dire ai suoi ragazzi buona la prima, al termine di una sfida combattuta molto intensa sin dai primi minuti di gioco. Al terzo, la prima occasione è del Milan, verticalizzazione di Barazzetta per Tonin, decisiva la deviazione di D'Andrea che manda il pallone sul palo. Il Napoli sembra un pugile nell'angolo del ring e al quarto Brescianini stacca indisturbato su un cross dalla sinistra, ma manda il pallone a lato. Al quindicesimo reagisce il Napoli, triangolazione tra Palmieri e Sgarbi, che premia l'inserimento sulla destra di Mezzoni, ma la sua conclusione sul primo palo finisce a lato. Al ventunesimo ancora gli azzurrini, Soncin esce a vuoto, Perini colpisce il palo e poi in mezza rovesciata manda il pallone alto sopra la traversa. Al ventisettesimo, Sgarbi difende bene il possesso del pallone. Scarica su Zanoli, che dalla sinistra trova Palmieri in area di rigore. L'attaccante azzurro ci arriva con la punta del piede, Soncin si oppone e respinge la conclusione. Al quarantacinquesimo è ancora a duello Palmieri-Soncin. Il portiere del Milan ferma in uscita l'attaccante azzurro su una sponda di Gaetano. Nella ripresa il Milan reclama per un presunto fallo di mano di Perini. Il contatto con il pallone c'è, ma il braccio è attaccato al corpo e l'arbitro decide di lasciar correre. Al cinquantanovesimo il Napoli passa in vantaggio. Gaetano accende la luce, apre il gioco sulla destra per Mezzoni, che crossa al centro per Palmieri, bravo a battere Soncin e a portare il Napoli sull'1-0. Il Milan reagisce subito alla ricerca del pareggio. Al sessantunesimo Frigerio, di testa su cross di Capanni, colpisce la traversa. Lupi inserisce Maldini per Brescianini e il figlio d'arte rosso-nero è subito pericoloso. D'Andrea devia il suo calcio di punizione in corner. Baronio inserisce forze fresche dopo Vracas al posto di Gaetano. Entrano Zedadka e Negro per Palmieri e Mezzoni, mentre il Milan rinforza il peso offensivo. Inserisce al posto di Frigerio l'attaccante classe 2002, Colombo, che è subito pericoloso. Imbucata di Maldini per il taglio del centroavanti rosso-nero, che trova la straordinaria risposta di D'Andrea in uscita. Al novantunesimo il Napoli potrebbe chiudere la partita. Negro si invola verso la porta del Milan, esteso da Mionic, ma l'arbitro non assegna il calcio di rigore. Finisce 1-0 al Gagnello di Fratta Maggiore. I ragazzi di Baronio possono festeggiare con il pubblico e pensare già al prossimo impegno. Martedì a Belgrado inizia l'avventura in Yacht League contro la Stella Rossa.